Il nostro gruppo negli ultimi anni ha affrontato un processo di grande trasformazione, dal completamento del percorso di integrazione all'avvio del piano di ricambio generazionale, avviato nel 2015 e che proseguirà nei prossimi anni, prevedendo l'ingresso di numerosi giovani. Tutte le persone che operano nei vari business e a vari livelli dell'organizzazione hanno lavorato con impegno in questi anni non solo per ottenere i risultati raggiunti, ma contribuendo contestualmente al percorso di cambiamento culturale che ci ha visti coinvolti. A valle delle prime fasi di questo percorso, lo scorso anno abbiamo deciso di confrontarci con le più grandi aziende per capire il nostro posizionamento in ambito HR e per poter sviluppare e crescere al meglio i nostri processi che toccano da vicino il bene più prezioso che abbiamo in azienda, cioè le nostre risorse. Per questo motivo abbiamo intrapreso il percorso di certificazione Top Employers. Top Employers Institute certifica le migliori aziende al mondo in ambito HR, quelle che offrono eccellenti condizioni di lavoro e che formano e sviluppano i talenti a tutti i livelli dell'organizzazione e si sforzano costantemente di migliorare ed ottimizzare le loro best practice. La certificazione si basa su un'analisi di dati oggettivi. Vengono esaminati circa 600 elementi tra dati, indicatori, documenti e pratiche che riguardano non solo i processi che abbiamo sviluppato negli ultimi anni e per i quali c'è stata riconosciuta l'eccellenza, ma anche tutta una serie di processi che dovremo sviluppare alla luce delle sfide del nuovo piano industriale. Un piano che con l'ingresso di numerosi giovani vedrà lavorare nei prossimi anni gomito a gomito addirittura quattro diverse generazioni, differenti tra di loro in termini di esigenze, di aspettative e di prospettive. La costruzione di un ambiente stimolante per tutti, non solo per i nuovi ma anche e soprattutto per coloro che da anni operano nel gruppo, così come investimenti, informazione per far sì che le competenze già eccellenti non diventino obsolete a fronte dei cambiamenti repentini del contesto in cui operiamo, piuttosto che politiche retributive legate alla performance o il disegno di piani di welfare destinati a soddisfare le esigenze di tutti i vari target della popolazione saranno le nostre priorità. È per questo motivo che il percorso di certificazione per noi non è stato solo il punto di arrivo o il motivo di riconoscimento di quanto già fatto, ma vuole essere un impegno a sviluppare soluzioni nuove e ottimali per offrire a tutti un contesto in cui crescere professionalmente e stare bene.